Bene, grazie per essere intervenuti a quest'ultimo appuntamento, appuntamento ultimo ma molto importante perché si tratta di un libro che io ho letto con grande piacere e che mi ha molto emozionato. Non sono un alpinista, ma mi piace il ghiaccio in tutte le sue declinazioni e soprattutto questo è un libro che va oltre l'alpinismo, che va oltre l'aspetto naturalistico. Se dovessi definirlo è un libro che mi ricorda, è una suggestione che ci ha lasciato prima Mian, un po' i quadri di Piero della Francesca, dove c'è una visione globale, ma osservando meglio ci sono tante storie che vengono raccontate nello stesso quadro. Quindi è un po' un libro sull'epica del ghiaccio perché partiamo quasi in ordine cronologico, direi, dal ghiaccio e dalla conoscenza dell'illuminismo nel Settecento, quando partono i primi studiosi del ghiaccio, si arriva a una visione più romantica del ghiaccio e dell'alpinismo che parte con l'Ottocento e che arriva nel Novecento. Il ghiaccio nel Novecento è anche sintomo del cambiamento economico, industriale, perché viene utilizzato per la produzione alimentare, viene creato il ghiaccio artificiale per questioni mediche. E poi si arriva al 2000, dove forse si perde un po' di romanticismo nella storia dell'alpinismo e il ghiaccio è, lo dicevamo prima nella microintroduzione, uno dei testimoni davvero implacabili del cambiamento climatico che le cui cause, visto che siamo nell'era di Antropocene, sono in buona parte dovute all'azione umana. Allora io vorrei chiedere, partire con questo racconto-narrazione, perché questo si tratta di un libro-racconto, quasi un romanzo per certi aspetti, capire da dove nasce la passione umana per il ghiaccio o lo stimolo alla conoscenza. Grazie già per tutte le belle parole che avete detto. Diciamo che la passione una volta non c'era per niente, nel senso che il ghiaccio per noi noi lo viviamo come una cosa positiva, perché abbiamo imparato a divertirci sul ghiaccio, abbiamo imparato a usarlo per refrigerare gli alimenti, per conservarli, abbiamo imparato un sacco di cose, quindi noi viviamo negativamente il fatto che il ghiaccio stia scomparendo, ma invece in passato non è sempre stato così, anzi, io penso che il rapporto tra le civiltà più antiche il ghiaccio fosse sostanzialmente un rapporto di convivenza forzata, insomma. Io conosco bene la storia delle Alpi, un po' meno quella della Groenlandia, ma ho letto molte cose, oppure quella degli Inuit, per esempio. Mi sono reso conto di come, da un lato c'è questa meravigliosa capacità dell'uomo che vive con un elemento anche difficile e ostico come il ghiaccio, di dargli dei significati che vadano oltre la quotidianità, che vadano oltre il visibile addirittura. Il ghiaccio diventa una sorta di, non dico di Dio, ma comunque di rappresentazione di fenomeni invisibili. Però, insomma, senza volare così in alto, si può dire che, per esempio, i montanari hanno sempre sopportato il ghiaccio che andava a insidiargli, soprattutto durante i periodi di avanzata, per esempio il loro lavoro nei campi. Ci sono dei quadri, delle fotografie ancora abbastanza recenti, che le foto risalgono a un secolo fa. Tutti sarete stati a Cormaglio, al traforo del Monte Bianco, dove oggi entriamo dentro il buco. Una volta non c'era il traforo, ma c'erano i campi coltivati, tutti terrazzati. Il ghiaccio arrivava proprio a baciare i campi, cioè non c'era soluzione, non c'era divisione tra le due cose, era un continuum. C'era proprio, finiva il campo, cominciava il ghiaccio. Per dire che la convivenza era necessaria, ma problematica. Il ghiaccio è anche una metafora dell'inverno, se vogliamo, la stagione fredda, la stagione dura, che di nuovo noi oggi tendiamo a considerare addirittura una bella stagione per chi ama lo sci, per esempio, per chi ama la montagna innevata, perché non ci fa più nessuna paura il freddo oggi, anzi, magari anche quello già un po' lo rimpiangiamo, ma per uno che viveva in montagna, per esempio c'era la Beshanou che diceva che vivere in montagna vuol dire sopportare tre mesi di freddo e nove di gelo, e questo dava l'idea di cos'era il rapporto del montanaro con il freddo. L'inverno, appunto, metafora del ghiaccio, o il ghiaccio metafora dell'inverno, era il periodo in cui si resisteva, un po' come hanno fatto poi i soldati durante la Grande Guerra, costretti a resistere l'estate e l'inverno in situazioni assurde, si resisteva, non si poteva fare niente, si poteva solo aspettare, e quindi c'era l'esercizio della veglia, l'esercizio del racconto, di cui poi noi facciamo un po' anche di retorica, però di fatto era un esercizio di resistenza, bisognava aspettare che passasse il prima possibile. Questo era il rapporto, credo, delle popolazioni antiche, ma antiche vuol dire fino a poco tempo fa, insomma, fino a due secoli fa, con il ghiaccio. Poi si è rovesciato tutto perché, appunto, sulle Alpi, per esempio, sono stati scoperti gli sport invernali, che è una cosa che risale alla fine dell'Ottocento, e allora si è scoperto che la montagna, per esempio, può essere frequentata con giovamento, anche fisico, d'inverno, ma è un'acquisizione molto, molto recente. Quando inizia, invece, abbiamo detto tutto sommato nell'epoca dell'illuminismo, nel Settecento, la necessità di conoscere qualcosa di più del ghiaccio, perché poi c'è questo aspetto. Sì, la cosa che mi ha sempre colpito è che l'infatuazione romantica per la montagna, il ghiaccio, le cascate, per tutti questi fenomeni che prima erano temuti e reputati addirittura sintomo di disordine naturale. addirittura c'è una teoria protestante del Seicento che dice che Dio, dopo il diluvio universale, non sapendo dove buttare tutta la spazzatura che era venuta fuori, l'aveva ammucchiata sulle montagne, per esempio, perché in una visione arcadica classica, la montagna, il ghiacciaio, tutto questo può essere vissuto veramente come un fenomeno di disordine. interesse per il disordine che diventa sublime è settecentesco e dipende proprio dalla sensibilità romantica che rovescia il paradigma tradizionale, quello dell'Arcadia, pensate alle colline dolci, colline senesi o alle colline inglesi, quello era il bello fino ad allora. I romantici invece cominciano a individuare il bello, loro lo chiamano il sublime, nell'inverso, cioè nei fenomeni più estremi della natura e non solo della natura, insomma, se noi leggiamo o guardiamo i quadri romantici ci accorgiamo di come venga rappresentato un mondo che è tutto il contrario di quello dolce, programmato, coltivato, ammaestrato, è un mondo che sfugge perché proprio quello è il fenomeno che attrae i romantici. Ecco, però la cosa che colpisce è che parallelamente a questo e le due cose un po' si influenzano ma un po' anche sono indipendenti, nasce invece la scoperta scientifica, quindi l'illuminismo e sono esattamente quei decenni lì. Evidente che poi le due cose si aiutano perché se io comincio a frequentare un ambiente, se io comincio a innamorarmi di un ambiente, poi di fatto ho anche bisogno di sapere che cos'è, quindi ho anche bisogno di studiarlo, di spiegarlo. Comunque anche la scoperta scientifica, come quella romantica, risale sostanzialmente, comincia nella seconda metà del Settecento. Ma il primo glaciologo che viene considerato tale, almeno in Europa e anche i suoi colleghi più o meno coetanei nelle varie parti del mondo, sono già della prima metà dell'Ottocento, quindi fino a diciamo l'820, 830 circa, non si sapeva quasi niente del ghiaccio, cioè si sapeva ovviamente che era un elemento solido, fatto di acqua, che aveva certe caratteristiche, ma per esempio non erano ancora stati spiegati i grandi movimenti del ghiacciaio, che poi è quello che determina l'interesse. Finché qualcuno ha cominciato a chiedersi, ma perché per esempio vicino a Ginevra ci sono dei grandi massi in mezzo alla pianura? Che senso ha? Sono caduti dal cielo? Sono dei meteoriti? No, non sono dei meteoriti. E allora qualcuno ha cominciato a zardare la teoria che ci fosse stato un ghiacciaio molto grande in passato che li aveva portati fino lì. E di lì ci poi arrivati a capire attraverso il primo grande studioso ma anche divulgatore, il primo glaciologo che è stato lui a Gassi, uno svizzero, arrivati a capire che non era solo quel piccolissimo ghiacciaio che copriva la valle del Rodano, che già stordiva come visione del passato, ma che voleva dire che metà continente europeo era stato coperto dal ghiaccio per esempio. E quindi il ghiaccio era uno dei grandi motori della trasformazione terrestre. E allora questo è una scoperta che ha dato le vertigini, tutti i vecchi professori l'hanno cacciato come pazzo, cioè gli hanno detto tu sei fuori di testa. In realtà invece lui aveva capito, e come lui poi qualcun altro in seguito, che bisognava risalire a milioni e milioni di anni prima e che più volte la Terra era stata ricoperta dai ghiacci. E quindi quel ghiaccio che loro oggi vedevano in cima alle montagne, sopra i 3000 metri, era un residuo glaciale, ma che in passato invece le valli, per esempio le grandi valli delle Alpi, pensate alla Val d'Aosta, pensate alla Valle del Rodano, la Valtellina, valli di grande proporzioni, erano state plasmate dal ghiacciaio. In Val d'Aosta per esempio è stato prima citato del Museo delle Alpi a Bard, Bard è questa fortezza che c'è all'inizio della valle, ebbene non solo quella roccia lì era sepolta, ma il ghiaccio aveva una spessore di 6-800 metri, per dirvi la forza, e infatti poi quando sfociava nella pianura costruiva questi enormi anfiteatri morenici che oggi noi possiamo ancora vedere molto bene. Quindi insomma la scienza del ghiaccio è una scienza molto recente. È un ghiaccio familiare quello delle Alpi, questo ghiaccio, e quindi l'esplorazione in verticale, però c'è una, ed è tutto sommato nonostante i problemi di relazione col ghiaccio è qualcosa di familiare che ricorda casa, mentre il ghiaccio orizzontale, quello dei poli in particolare dell'Artico è qualcosa che ancora in quel periodo, forse anche molto dopo, è distante, è pericoloso, è angosciante, ma è anche destinazione di esplorazione, tranne che per gli eschimesi per cui l'igloo era a casa, adesso gli igloo sono stati sostituiti da d'altro. Riusciamo a fare un parallelo fra questi due ghiacci? Sicuramente. Allora, la glaciologia non nasce al polo sud o al polo nord, che poi come sapete non è terra con ghiaccio sopra, ma è proprio ghiaccio e basta. Il polo nord è una grande piattaforma che naviga sul mare, mentre il polo sud è un continente con chilometri e chilometri di ghiaccio che lo ricoprono. Allora, non nasce di la glaciologia e questo si spiega molto facilmente col fatto che questi luoghi erano molto, molto difficili da raggiungere, tranne che per chi li abitava, evidentemente, che quindi ci era nato, non al polo nord, non al polo sud, ma per esempio ho detto, diciamo, in Alaska, in Groenlandia, in tutta questa fascia che è lì a cavallo tra la terra e il ghiaccio, ma dove sostanzialmente ci sono condizioni climatiche molto simili ai nostri 3.000 metri, insomma, cioè si vive sempre in un perenne inverno, no? Oggi è un po' meno, oggi l'inverno anche lì si è molto attenuato. Quindi la scoperta nasce invece dove il ghiaccio, i ghiacciai erano facilmente raggiungibili. A pochi passi si vedevano dalle grandi città, da Ginevra io vedo ghiacciai, da Torino vedo ghiacciai, da Milano vedo ghiacciai e quindi io posso, come dire, immaginarmi un'esplorazione abbastanza agevole, anche se poi di fatto agevole non è stata, perché Agassi per capire tante cose ha dovuto stare, mi pare, nove o dieci anni a fare delle lunghe campagne estive, proprio attendandosi, appiantando, dormendo e vivendo quasi sul ghiacciaio in condizioni molto difficili. Però di fatto era poi a due ore dall'ospizio di Grimsel, quindi insomma era a due ore dalla civiltà. Quindi la glaciologia, la scienza è partita da questi luoghi perché erano i più accessibili e anche perché bisogna dire che la pendenza aiuta da un certo punto di vista perché si vedono delle differenze in brevi distanze, mentre le grandi estensioni sono più omogenee. Però poi dopo l'epopea, questa è una vera e propria epopea, quella scientifica, ma poi viene l'epopea alpinistica parallelamente, che poi di fatto è la conseguenza del romanticismo, della scoperta delle Alpi. Appena dopo, alla fine dell'Ottocento, cosa resta da esplorare sul pianeta terrestre? Di fatto è stato tutto abbastanza esplorato, restano i luoghi più estremi, quindi alcune macchie della giungla, restano le grandi montagne all'Himalaya, per esempio, che verrà poi salito soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Grandi Cime, e restano le grandi estensioni ghiacciate, che sono, secondo me, l'epopea più straordinaria, il capitolo più straordinario dell'esplorazione geografica terrestre. Perché, e qui io non ero un esperto, neanche lo sono adesso, credo, però ho letto tanto, colpisce il fatto che bisognava unire due dimensioni. La dimensione della navigazione, quindi attraversare dei mari molto problematici, perché non è che si andava in barca a vela nel Mediterraneo tranquillo, si andava ad affrontare con delle barche robuste, ma insomma non quelle di oggi, dei mari molto cattivi. E poi la seconda parte invece voleva dire lasciare la nave e avventurarsi in queste estensioni immense, ghiacciate, senza ovviamente gli strumenti di navigazione satellitare che abbiamo oggi e tante altre strumentazioni. Ma affidandosi sostanzialmente alle stelle, sia in mare che poi dopo, affidandosi all'intuito e al coraggio, con delle attrezzature anche molto, molto spartane, approssimative. Si mettevano addosso tutta la pelliccia che potevano, ma poi si accorgevano che con la pelliccia non si cammina, quindi insomma alla fine erano vestiti, avevano il maglione e la giacca di lana, ecco, erano vestiti esattamente come gli alpinisti dell'Ottocento sulle Alpi. E queste esplorazioni sono incredibili, soprattutto conoscerete alcuni famosi capitoli dell'esplorazione polare, primo perché uniscono appunto la dimensione della navigazione a quella esplorazione. Secondo perché spesso addirittura le due cose si fondono, perché ci sono dei personaggi come Nansen che hanno l'idea addirittura di farsi, come dire, imprigionare dal ghiaccio, cioè navighiamo fino a che viene l'inverno, ci facciamo imprigionare e poi siccome si sapeva già che i ghiacciai si spostano continuamente, specialmente quelli del polo nord o in mare, continuano a muoversi e poi da qualche parte ci porterà e se siamo fortunati ci porta verso nord, quindi siccome la meta era il polo geografico, magnetico geografico del nord, andiamo in quella direzione magari. Non funzionava poi sempre così, anzi spesso succedeva il contrario perché la nave rimaneva prigioniera per mesi, mesi e mesi, quindi si rischiava anche di morire di fame. E di fatto poi a un certo punto qualcuno, come lo stesso Nansen, doveva scendere la nave, avviarsi a piedi, portandosi dietro queste canoe che erano anche slitte, di solito con l'aiuto dei cani che poi regolarmente morivano disfinimenti e venivano a loro volta mangiati, con delle epopee veramente incredibili. Ecco, io tutte le volte che arrivavo alla fine di un racconto e scoprivo che erano tornati a casa, rimanevo stupefatto perché in confronto scalare l'Everest è uno scherzo dei ragazzi, nel senso che almeno sei vicino ancora relativamente, parliamo di giorni, invece là parliamo di mesi, a volte di anni. Quindi sono veramente delle storie pazzesche. Ecco, è stato citato Nansen, uno dei personaggi che vengono citati, le cui storie anche umane vengono raccontate nel libro, insieme a Claude Lorius. Allora, volevo, Nansen mi è interessato per oltre ad aver avuto questo coraggio nell'esplorare il Nord, i ghiacci del Nord, poi si è imbattuto in quegli anni in cui c'è stata la Grande Guerra, in cui ci sono stati i profughi. Insomma, è un signore che poi ha preso il premio novella. Nansen è un personaggio unico, credo. A me ha sempre colpito quelli che sanno con la stessa generosità, la stessa passione dedicarsi a un'attività esplorativa, che di fatto è spesso un'attività abbastanza egoistica, perché lo fai per avere dei riconoscimenti, per raggiungere dei risultati. E poi però con la stessa passione lui ha saputo cambiare vita e dedicarsi per parecchi e parecchi anni appunto a difendere i profughi dopo la guerra. Inventare addirittura il passaporto Nansen, che era una sorta di lascia passare per queste milioni di persone che non avevano più una casa, che quindi erano rifiutati da tutti. C'è stata... sì esatto, infatti fa ridere che oggi qualcuno si stupisca, no? Perché è stata una cosa biblica veramente in quei tempi là. Ha vinto il Nobel per la pace, quindi non ha vinto il Nobel per l'esplorazione polare, ma per la pace. È un uomo veramente straordinario. Così come io ho trovato straordinario, pur non avendolo conosciuto di persona, beh, Nansen non poteva, ma questo Claude Lorius potrei, perché è ancora vivo. Un francese è stato il primo che ha, tra i primi almeno, forse il primo, che ha capito che il ghiaccio polare, ma qui parliamo del polo sud, conteneva il racconto del passato, il racconto del clima. E come l'ha capito? Allora era un giovane scienziato francese, nel film che ho visto su di lui, oggi è un signore anziano, molto fragile, ma non è mai stato un omone, quindi è una persona che è stata spinta certo non dalle sue capacità fisiche, ma soprattutto della sua curiosità, della voglia di capire, della voglia di conoscere. E ha cominciato a frequentare l'Antartide con queste prime spedizioni che facevano già allora con questi capannoni costruiti dentro il continente antartico, capannoni di metallo, quindi dei luoghi molto ostili, molto spartani, dove facevano una vita da eremiti quasi. Lui ha cominciato da giovane e dopo un po' di queste missioni, un giorno lui racconta che era come sempre chiuso in questi capannoni, giusto chiamarli così, con i suoi colleghi e come sempre la notte antartica arrivava troppo presto e come sempre non sapevano cosa fare e bevevano, come sempre succedeva in quei luoghi lì. E dice che quando ha preso un cubetto di ghiaccio, lì non c'era bisogno di andare nel frigorifero perché bastava uscire e prenderlo, e l'ha buttato nel whisky, ha visto delle bollicine e gli è venuta l'intuizione che dentro quelle bollicine, siccome era aria, ci potesse essere qualcosa. Ci è voluto del tempo, ma in pochissimi anni, facendo questi trasporti di pezzi di ghiaccio di carote, le prime che formose carote di ghiaccio dall'Antartida e dalla Francia, ai laboratori francesi, è venuto fuori che non solo le bollicine contenevano la storia del passato, ma che scavando per centinaia di metri e migliorando il sistema di carotaggio, quindi facendo delle macchine sempre più efficienti, si poteva arrivare chilometri nel ghiaccio e quindi estrarre centinaia e centinaia di migliaia di anni della storia del clima, perché il ghiaccio ogni centimetro, ogni millimetro direi, registra quello che c'è nell'aria in quel periodo, in quel momento, quindi andando giù chilometri si può ricostruire pezzo per pezzo quello che è stato buttato nell'aria. Oggi siamo a un milione e circa centomila anni, ma c'è una spedizione che è partita, che è iniziata, che garantisce che tra due o tre anni arriveremo a un milione e mezzo di anni, quindi è una cosa vertiginosa. Noi sapremo perfettamente cosa è stato buttato nell'atmosfera terrestre per un milione e mezzo di anni. Già, oggi sappiamo per un milione. Ed è lì che poi Lorius e altri, aiutato dai russi, quindi c'è anche questa cosa che i francesi lavoravano con i russi in piena guerra fredda, insomma nel periodo in cui non c'era tutto questo amore. Esatto. Lui comincia a lanciare l'allarme e dice guardate che è chiarissimo che più ci avviciniamo alla rivoluzione industriale, qui negli ultimi 100-150 anni, massimo 200, si capisce che per esempio i gas fossili hanno un aumento vertiginoso. Prima erano tracce, invece diventano presenze enormi, costanti, forti e quindi lui comincia a lanciare l'allarme e dice guardate che noi stiamo accelerando la storia del clima in un modo che vi posso garantire non è mai successo almeno in un milione, non è ancora al milione, diciamo in 500 mila anni. Tutti lo ignorano naturalmente, persino gli scienziati a volte un po' lo snobano, ma soprattutto lo ignorano i politici, lo ignora l'opinione pubblica, i giornali, l'industria non ne parliamo, nessuno parla di questo problema. E devo dire che, adesso io non ho niente a che fare con l'Orius, ma quando, lo dicevamo prima, quando sono arrivato a occuparmi dei ghiacciai e ci sono arrivato dall'aspetto delle leggende, perché era la cosa che più mi attraeva essendo io di formazione più umanista che scientifica, e ho cominciato a parlare neanche con il mio additore e con altri, insomma parliamo di 12 anni fa, io mi sono reso conto che in Italia il tema, i ghiacciai stanno fondendo e stanno scomparendo, era totalmente ignorato, proprio rimosso. Mentre invece, frequentando le librerie e le biblioteche di svizzere, francesi e austriache, era un tema all'ordine del giorno. In Svizzera non si parlava d'altro nei libri, c'erano metà dei libri in paesi di montagna e nelle città di montagna dedicati a questo problema. da noi, zero. E solo adesso, grazie a Dio, si è arrivati a, diciamo, a sdoganare l'argomento almeno, anche se poi spesso si oscilla tra il catastrofismo, la cattiva notizia, il seracco di plan pensier, che cade, combinazione, cade solo sempre quando c'è un po' di turismo lì sotto, perché quando non c'è il turismo non cade più. Esatto, sono tranquilli, fino agosto non ne sono... Ecco, quindi se ne parla anche in questa maniera, che non è proprio in una maniera corretta. Però diciamo che adesso credo che tutti più o meno abbiano sentito il tema. Ma solo 12 anni fa in Italia era una cosa. Quindi immagino il povero Lorius quando ne parlava negli anni 80-90 del secolo scorso, portando una documentazione strepitosa dal punto di vista scientifico, che risposte potessi avere, insomma? Sì, questo ne parlevamo anche prima, mentre eravamo seduti ad aspettare di iniziare questo dibattito e parlavamo proprio del fatto che, tra l'altro, tu, in un tuo libro scritto 10 anni fa, lamentavi proprio il fatto che questo libro, che già parlava di effetti climatici, fosse stato un po' messo, non dico in disparte, ma non preso in considerazione. Questo era già... Sì, appunto, io non è che sono arrivato lì per fare la denuncia, anche perché c'è gente come Luca Mercalli, che lo diceva almeno da altri 10 anni prima di me, e lo diceva con cognizione di causa, perché lui è un climatologo, quindi loro, per esempio, ci sono tanti gruppi, a Milano c'è il gruppo di Smiraglia, siamo molto avanti, tra l'altro, noi come italiani, come spesso succede. Poi non ce ne rendiamo conto, magari. Siamo molto stimati all'estero, scoperto come glaciologi, io non centro niente, ma frequentandoli. Dopodiché, loro lo dicevano un sacco di tempo, però effettivamente, appunto, il riscontro era molto tiepido, no? Molto, molto tiepido. Quasi da non crederci, perché già allora il 95% della comunità scientifica aveva dichiarato chiaro e tondo questo problema. Il trattato di Chiotto era già all'ordine del giorno, cioè non potevamo far finta di niente, eppure tutti facevano finta di niente. E qui io mi auguravo, appunto, che questo libro che io prendevo dall'altra parte, cioè dalla parte, appunto, del rapporto umano col ghiaccio. Quindi neanche, come dire, mi lanciavo subito in qualche denuncia o in qualche allarme, ma lo prendevo proprio da distante. Credevo che avrebbe avuto un interesse, visto che mi sembrava che l'argomento fosse ampiamente attuale, invece no. Oggi le cose sono diverse, devo dire assolutamente. Ma intanto sono usciti un sacco di libri, un sacco di studi. Poi internet, veramente, da questo punto di vista, è una miniera. Non ci vuole veramente niente per farsi un'idea chiara, se si sa un po' navigare, come faceva Nansen, in un modo corretto. tra... perché tutti gli studi scientifici sono a disposizione, tutti i confronti tra... tu puoi addirittura capire, senza essere un espertissimo, come la pensa uno, come la pensa l'altro e alla fine a che conclusioni sono arrivati, parlandosi. Quindi, veramente, chi fa finta oggi è veramente in malafili. Infatti, la domanda è... siamo ancora in tempo? Non lo so. Io ho visto... ho visto delle cose che non mi hanno molto tranquillizzato. Per esempio, Giorgio Mallucci, che attualmente è il presidente del Comitato Graciologico Italiano, che è uno di quelli che ha fatto più spedizioni... nanoschia, Mallucci, scusate... Giorgio... dopo vi dico il nome... ci ha fatto una... lui è stato in Antartida molte volte... ci ha fatto una... un racconto, perché poi ormai sono racconti che durano decenni, di questi carotaggi che non lasciano nessun dubbio, insomma. Purtroppo sono talmente chiare ed è chiara l'evoluzione, soprattutto, che non si può far finta di niente. Sulle Alpi, poi, bastano gli occhi nella testa, nel senso che basta andarci, esatto. Prima sì, si parlava della marmolada, la marmolada è visibile, la sparizione, nel senso che, come ci hanno annunciato già appunto da almeno vent'anni i glaciologi, i ghiacciai che per primi scompariranno sono quelli sotto i 3.500 metri. E siccome è una marmolada, che pure era un ghiacciaio importante, pensate che durante la grande guerra c'è stata dentro una città, la città di ghiaccio, dove hanno vissuto per due anni gli austriaci, quindi per scavare una città non è che la scavo in un 10 centimetri, ho bisogno di profondità ragguardevoli. Beh, la marmolada è sicuramente destinata a scomparire, il ghiacciaio della marmolada. E prima di scomparire restituirà tutte queste cose che si è ingoiata durante la grande guerra, quindi è diventato proprio un grande archivio, diciamo, anche dal punto di vista storico. Sopra i 3.500 metri, soprattutto quando i ghiacciai sono esposti a nord, quindi i ghiacciai, diciamo, svizzeri, austriaci, in parte francesi, sono destinati ad orari di più di quelli italiani. Beh, sopra i 3.500 cosa capita che lo spessore è talmente, parliamo di chilometri, che la fusione è un po' più lenta, ma comunque parliamo di scomparire o no. Allora, quest'estate siamo stati con Legambiente che ha fatto, come sapete, la carovana dei ghiacciai, proprio per vedere un po' le varie situazioni. La prima, c'era anch'io, è stata al ghiaccio del Miage, sul Monte Bianco, che è un ghiaccio himalaiano, tutto coperto ormai di detriti. Ecco, lì paradossalmente il detrito, come capita anche per esempio in Karakorum, preserva, protegge, perché il sole picchia e non riesce a sciogliere. Nonostante questo il Miage sprofonda di circa un metro all'anno. Dove non c'è il detrito a proteggere, quindi dove il sole picchia direttamente sulla superficie glaciale, a volte ne perdi anche dieci. Quindi insomma, sono dei fenomeni visibili quasi occhio nudo. Se io sto lì, avessi voglia di stare lì due mesi col binocolo in un posto dove si vede gli acciai, lo vedo proprio fondere sotto i miei occhi. E poi la fusione si unisce a fenomeni di caduta, di crollo, quindi insomma ci sono veramente dei cambiamenti non, come dire, molto evidenti. Poi dipende tantissimo naturalmente dall'orografia, dalla posizione, dall'esposizione, da tanti fattori. Però sulle Alpi il fenomeno c'è in modo forse più radicale, ma non pensiate che in Himalaya non stia succedendo. Semplicemente in Himalaya c'era più superficie glacializzate, quindi come succede, come dicevo prima, per altri ghiacciai alpini la cosa è un pochino più contenuta, ma comunque la regressione è evidente dappertutto. Dove è più evidente, mi dicono, io non ci sono stato, dove c'erano le grandi distese glaciali che arrivavano poi a tuffarsi nell'acqua, nel mare, o anche nell'acqua dolce, per esempio in Patagonia succede, per esempio in Alaska, soprattutto in Alaska, in Canada succede, dove i ghiacciai arrivavano a tuffarsi nel mare, e beh lì i riscontri, anche solo fotografici, degli ultimi vent'anni sono spaventosi, perché questo mare, cioè dove prima c'era un ghiacciaio magari largo o venti, trenta chilometri, oggi è un golfo, oggi è acqua, perché chiaramente la fusione lì viene accelerata dall'acqua stessa. Comunque insomma c'è tutta qui anche una documentazione straordinaria, per esempio il racconto di un film molto interessante americano, di un regista un po' visionario che un giorno ha avuto questa idea, diceva, ma come mai non possiamo tentare questo esperimento? Mettiamo delle telecamere in tutti i luoghi più vicini alle fronti dei ghiacciai, dei grandi ghiacciai terrestri, e praticamente scattiamo una fotografia ogni mezzo minuto, adesso io non so dirvi esattamente, non me lo ricordo, così praticamente queste fotografie diventano un film, perché poi le velocizziamo, e quindi diventa proprio una... Ebbè questo signore, questo regista, cosa è successo? In alcuni punti il suo esperimento ha funzionato, in altri la fusione è stata così rapida che la macchina fotografica non riusciva più a inquadrare il ghiacciaio, è uscito dall'inquadratura, e quindi lui ha dovuto più volte nel corso, mi parli di due o tre anni di riprese, andare con delle truppe per spostare le macchine fotografiche... Esatto. Quindi insomma ci sono un sacco di documenti a riguardo, anche molto poetici, molto documentati, ma anche molto sentiti dal punto di vista del sentimento, che proprio non è soltanto una documentazione scientifica. Resta il fatto che questo fenomeno è scontato, quello della fusione dei ghiacci, perché lo vediamo sotto i nostri occhi. Resta sempre la domanda, quanto di nostro ci abbiamo messo per accelerarlo, perché tu mi hai detto prima che i cicli si ripetono, quindi sostanzialmente ci sono già stati in passato, solo che in questa fase quanto l'uomo ci ha messo di suo per portarlo a un livello così elevato, questa è la domanda che poi negli ultimi anni è uscita e che ci porterà a vederne l'effetto a breve, perché parliamo di pochissimi anni. Sì, tutti concordano, e qui parlo del 97% della comunità scientifica internazionale, quindi non parliamo di quattro esaltati, sono tutti d'accordo sul fatto che noi abbiamo accelerato tantissimo la fusione. Nessuno è in grado di dire quanto, perché sarebbe un po' un azzardo dirlo. Però l'accelerazione c'è stata. Allora, c'è stata, ma parlo degli ultimi 20 anni, perché la piccola età glaciale, per esempio, nelle nostre regioni è finita nel 1850 circa, quindi sono circa 170 anni che sulle Alpi, per esempio, i ghiacciai regrediscono con dei brevi periodi di inversione di tendenza, per esempio quei poveri alpini che citavo prima o soldati degli austriaci che non si chiamano alpini, ma lo stesso, sono capitati proprio in due inverni spaventosi, 16-17, ma erano delle eccezioni, perché poi voleva dire che magari per altri 20 anni invece il fenomeno riprendeva. Un'altra eccezione sono stati gli anni 70, e anche qui non è chiaro, c'è chi parla delle piogge acide, non è chiarissimo che cosa sia successo, però effettivamente negli anni 70, del 900, non è che i ghiacciai si siano allungati, ma si è fermato il regresso. Il fatto è che però il fenomeno dell'accelerazione, che già si notava da un po' di tempo, negli ultimi 15-20 anni è diventata come se avessimo messo la quinta o la sesta, cioè una corsa è diventata, e quindi questo fa mal sperare, perché se un'accelerazione è costante è difficile pensare che a un certo punto qualcuno possa mettere la retromarcia. Allora il successo, come si dice sempre, sarebbe già di contenere questo riscaldamento, in modo tale che invece di essere 3 gradi, come è stato quello alpino, perché poi in montagna il riscaldamento è molto più accentuato che in pianura, se invece di essere 3 gradi negli ultimi decenni, nei prossimi 30 anni fosse un grado, che vorrebbe già dire un'enorme vittoria. Però per fare questo bisogna fare delle cose, sostanzialmente bisogna buttare meno gas, serra dentro l'atmosfera, e quindi vuol dire cambiare completamente il nostro sistema. Questo è un tema che ovviamente o viene affrontato a livello sovranazionale, mondiale, altrimenti senza essere catastrofisti. È probabile che si possano adottare delle strategie di adattamento al cambiamento del clima e quindi anche alla fusione dei ghiacciai e all'impatto sulle montagne. Introduco un tema un pochino più banale, più alla portata di tutti, cioè la relazione fra noi e la montagna, in cui ci sono i ghiacciai e c'è altro. Una fruizione che era prima solo degli abitanti delle zone di montagna, ma che c'erano anche dopo le campane, con lo sviluppo del turismo, con l'accelerazione dello sviluppo del turismo, con un turismo che, insomma, quest'estate abbiamo visto la montagna per vari motivi, è stata una delle destinazioni preferite e anch'io andandoci ho visto luoghi che non vedevo da molti anni e dove c'erano dei nevai e adesso ci sono dei canaloni di ghiaia. Al di là della grande notizia mediatica del ghiacciaio che cade sui turisti, però in generale ovunque, anche in Trentino, oltre che in Val d'Aosta, il numero di frane, di strade chiuse, di smottamenti che arrivano a valle sono stati quasi quotidiani, poi piccole cose, non tutto. Allora, lo sviluppo turistico, quello che ci sta portando per esempio all'Olimpiadi di Cortina, con tutto ciò che questo comporta, rivolto prevalentemente in termini di business al turismo invernale, quindi allo sci. È qualcosa su cui noi possiamo intervenire, cioè non abbiamo neanche bisogno di... parlando proprio delle nostre montagne, del nostro paese, anche di quelle vicine, possiamo intervenire senza aspettare i protocolli internazionali. C'è una consapevolezza di questo? Cioè è possibile, si vedono degli esempi di inversione di tendenza? Dobbiamo per forza sparare la neve tutti gli inverni per andare a sciare nelle località dove ci piace andare, dove è in andare? O possiamo pensare a un turismo che comunque ci faccia godere della montagna non necessariamente sciando? Eh, questa è una domanda fondamentale. Devo dire che hai trovato quello giusto, perché io sono anni che penso, scrivo, dico, e poi sono sempre tutti d'accordo, ma poi ce ne fosse uno di quelli che comandano, che invece veramente abbia coraggio di dirlo, perché poi un giorno ci sarà un bambino che dirà il re è nudo, il ghiacciaio è nudo, e quindi smettiamola di continuare a contarci frottole. Pensate che nel 91 è uscita una magnifica carta costituzionale che si chiama Convenzione delle Alpi, a cui hanno aderito tutti i paesi alpini, tutti hanno ratificato i protocolli, che è una carta che basta, se avessimo applicato quella oggi non staremmo più qui a discutere di questi argomenti, perché nel 91, 30 anni fa, era già tutto indicato, approvato, deliberato, nel senso che tutti i paesi a parole erano d'accordo su queste. Tra i protocolli ce n'è uno relativo al turismo e quando si parla di sport invernali si dice, chiaramente, sfido che io anche a dire il contrario, che non bisogna più costruire impianti, ma si deve al massimo ammodernare quelli obsoleti, nel senso che se un impianto non funziona più deve essere rinnovato, deve essere rifatto, deve essere collaudato, insomma, quello sì, ma non bisogna più parlare. Allora, già solo le Olimpiadi Cortina invece sapete quanti nuovi impianti prevedono. Quindi già solo dal punto di vista, come dire, giuridico, perché qui parliamo di una giuridizione internazionale che non è vincolante purtroppo, sono linee, però già da quel punto di vista stiamo andando nella direzione contraria. Questo 30 anni dopo, quando ormai, ripeto, insomma, per l'ennesima volta il tema è all'ordine del giorno. In più, vabbè, è evidente che lo sci ha avuto dei cambiamenti dovuti a tanti fattori. Si diceva vent'anni fa, ed era vero, che la gente spendeva meno a farsi la settimana nei luoghi caldi, con i voli a basso costo, e che quindi lo sci subiva il contraccolpo di queste offerte, ed era vero già quello. Sicuramente è vero che la neve ogni anno sale un po' più in alto, che non è vero che non nevichi, perché a volte nevica anche tanto, ma non basta che nevichi, perché un conto è... Bravo. Un conto è quando nevicava, io vi ricordo a Torino, una volta in collina ho fatto una gita di scelpinismo, perché potevo permettermi, con un metro di neve, di andare in mezzo alle ville praticamente, perché poi ormai lì è tutta una casa. Oggi a Torino io potrei anche non mettere più le gomme da neve, perché al massimo vengono giù due dita. È uguale, quindi non cambia. Quindi non è che non nevichi più, ma nevica sempre più in alto. Questo vuol dire che, per esempio, gli Svizzi hanno già deliberato, ma questa è una vera delibera, non è soltanto un intento, che sopra i 1800 metri non si scia più. E quindi, sostanzialmente, lentamente, ma non troppo, si dismettono gli impianti bassi e si punta soltanto più su quelli alti. Questa sarebbe già una scelta intelligente, mentre vi posso assicurare che in Piemonte, per esempio, si continua a sperare una nevicata del secolo che faccia cambiare le sorti di tutto e si punta ancora sugli impianti a mille metri di quota in certi posti, perché, poverino, quel paese lì non ha avuto l'impianto, ma questo è un secondo elemento. Il terzo elemento è che oggi sciare ci costa tantissimo, non solo se ci andiamo, perché già se ci andiamo, insomma, ci accorgiamo che il portafoglio non basta mai, ma soprattutto ci costa perché tutti noi paghiamo l'industria dello sci, cioè non è un'industria che sta in piedi da sola, ma è un'industria assistita, come era la Fiat prima di vivere quello che ha vissuto, insomma, perché poi anche lì a un certo punto qualcuno ha avuto il coraggio di dire basta, non la finanziamo più, e infatti cosa è capitato, è arrivato Marchionne e c'è stata una rivoluzione totale della visione. Allora, tutto questo dovrebbe farci pensare che non solo aveva ragione la Convenzione delle Alpi nel dire non facciamo più nuovi impianti, ma io andrei un po' oltre a questo punto, visto che sono passati altri 30 anni e tutto ci porta in quella direzione, direi, cerchiamo di mantenere l'esistenza, ci mancherebbe altro, cerchiamo di abodernare dove bisogna farlo, ma sappiamo, se abbiamo un minimo di prospettiva storica, rendiamoci conto che il futuro della montagna non è quello invernale, ma quello estivo, perché come quest'anno si è visto, ma non è solo una questione di Covid, è anche una questione di tante altre cose, il fatto che fa sempre più caldo, tante cose messe insieme, che la gente per esempio ha imparato molto di più di una volta a camminare, io questo lo vedo come un fenomeno andare in bicicletta, saranno mode, ma non è solo moda, cioè una volta faticare non era proprio una cosa vista come una scelta intelligente, e invece adesso sì, tutti facciamo dello sport. Allora, che cosa vuol dire? Che l'estate sicuramente avrà sempre più peso, avrà sempre più appeal, come si dice, e l'inverno sarà sempre più problematico, perché dovrà fare i conti, anche se poi in inverno si può fare di tutto in montagna, si può camminare, se non c'è la neve si può camminare sui sentieri, se c'è la neve si può camminare con le ciaspole, se uno è capace di sceare o vuole sceare può fare scepinismo, può fare tantissime attività che vanno oltre o che si affiancano o si dà discesa. Allora, in queste visioni io direi che uno Stato o un continente, perché qui parliamo, come dicevi, di decisioni ultranazionali, che abbia una visione, insomma, cominciamo a puntare un po' di più sul turismo dolce, cioè quello che non ha bisogno di impianti sostanzialmente, di motori, che poi sono una contraddizione, perché io per andare a sceare butto nell'aria un sacco di gas sera di nuovo e poi ne butta l'impianto stesso, quindi insomma cominciamo invece a spingere un pochino, almeno un pochino, verso l'altra direzione, perché la gente l'ha capito, perché il mondo ci cambia addosso e invece mi sembra che a livello di potenti, che poi sono solo quelli che hanno il denaro, che poi sono a loro volta dei burattini in mano delle altre multinazionali, insomma, a questi livelli non si dicano queste cose. E anche le Olimpiadi Cortina che vengono spacciate come ecologiche, io spero tanto che lo siano, ma ecologica è una parola seria, cioè vuol dire veramente, sostenibile è una parola seria, perché oggi è tutto sostenibile ma niente è sostenibile, cioè sostenibile vuol veramente dire che io lascio quel territorio meglio di come l'ho trovato. Vuol dire che i miei figli avranno una montagna o una città migliore di come io l'ho vissuta. Ecco, questa è una cosa abbastanza impegnativa. Allora ecco, non mi sembra che stiamo andando proprio in quella direzione ancora, almeno a livello di dibattito politico generale. Poi nel piccolo ci sono un sacco di esperienze buone, tutte ammirevoli, ma generalmente gestite da persone singole, da persone di buona volontà, da famiglie, da piccoli gruppi che si mettono insieme. E quindi insomma bisognerebbe fare un salto da questo punto di vista. Vi assicuro che io non so granché ancora delle Olimpiadi di Cortina ma so moltissimo di quelle di Torino perché c'erano dentro fino al collo e tutte le buone come dire, intenzioni, si sono rivelate solo intenzioni. Si è visto quello che è rimasto a Sestriere, no? Allora, a Torino è rimasto abbastanza, soprattutto dal punto di vista turistico, ma in montagna sono rimasti solo impianti obsoleti, sono rimaste opere che sono delle cattedrale nel deserto, parlo della pista di Bob, parlo del trapolino di salto. Allora ecco, dovrebbero fare tesoro di queste cose, no? Boh, non so, vediamo. Io qui non voglio fare appunto quello che giudica prima che succedano i fatti. Beh però, in fondo è vero, no? Speriamo di far tesoro di quello che è successo e di non ripeterlo poi con Cortina, ma è anche vero quello che tu dicevi che alla fine abbiamo enormi comprensori sciistici, dove alla fine forse se prendiamo il famoso sellaronda che chiude in attivo tutto il resto è un continuare a mettere soldi in impianti, in impianti che qualcuno deve pagare perché alla fine, come dicevi tu, i costi degli sci sono questi, quindi quanto vale la pena continuare a costruire? I svizzeri che non sono per niente dei santi, come ben sapete, ma che sono pragmatici, beh, hanno deciso per esempio questa cosa qua della quota, che mi sembra una cosa banale, però fondamentale, perché se tutta la scienza ti dice, stai sicuro che nei prossimi 30 anni sopra il 1800 non si scierà più, beh, io la smetterei di costruire seggiovie o funivie sotto quella quota lì, destinate allo sci, e quindi è già una piccola cosa, ma è importante, soprattutto dimostra un passaggio culturale, diciamo, no? Poi penso, non so cosa ne pensi tu, che questa è anche un'occasione, soprattutto anche nei mesi estivi, come abbiamo visto quest'anno, anche per far ripensare, per far tornare un po' indietro e rivalorizzare la cultura di montagna e farla conoscere a gente che magari è la prima volta che va in montagna che non l'ha mai fatto negli anni passati, perché alla fine noi paghiamo anche le dimenticanze dei tempi, dei nostri vecchi, della cultura montana, del mantenimento di un territorio, perché è vero, stiamo parlando di ghiaccio, stiamo parlando di diffusione, scusami, di ghiaccio, ma però parliamo di alluvioni, parliamo di frane, parliamo di montagna incolta, abbandonata al suo destino, è vero, i fenomeni si sono accentuati, però forse non abbiamo imparato le lezioni di chi ci precedeva, insomma. Sì, chi ci precedeva, di nuovo, non era per forza un genio, ma il genio, veniva dall'esperienza, nel senso che il genio è inteso come capacità dell'uomo di adattarsi all'ambiente, di inventare delle soluzioni, pensate che soluzioni straordinarie sono state inventate anche solo appunto sulle Alpi qui vicino, i canali per esempio di irrigazione, tutto il mantenimento, questo scavare, questo ricavare la terra in zone dove la terra quasi non esisteva, no? E anche questa convivenza con il ghiacciaio, col freddo, con l'inverno. Allora, certo, io credo che questi saperi fossero arrivati a un livello eccelso, che il turismo abbia inteso un po' ad appiattire tutto, nel senso che con quest'idea che bisognava, come dire, addomesticare ogni ambiente, no? Si è spesso anche, come dire, eroso, ecco la sapienza antica, no? Che sicuramente invece aveva un significato e ce l'ha ancora oggi. Dopodiché il risparmio in montagna o anche sicuramente per i popoli inuit era un dovere, era un modus vivendi, perché io dovevo risparmiare se volevo sopravvivere, no? Io non potevo sprecare. Oggi lo spreco è la ragione del nostro sviluppo. Allora, forse bisognerebbe anche qui trovare una via di mezzo, perché è vero che vivere risparmiando sempre, sempre in povertà, non è un bel vivere, ma avere come un'unica ragione di progresso lo sviluppo, quindi lo spreco, beh, insomma, non mi sembra un'altra scienza brillante, perché questo poi ci porta alla situazione attuale. Allora, io credo che anche qua bisognerebbe semplicemente valutare il pro e il contro e cercare di raggiungere, di inventarsi delle soluzioni, delle cose che stiano lì in mezzo, che non è stare in mezzo perché nel medio, come diceva nel Medius, non è quello. È una cosa molto diversa, vuol dire che non siamo più schiavi di quest'idea dello sviluppo. Lo diceva già Pasolini, quando diceva, è stato citato prima, lo cito anch'io, distinguere tra progresso e sviluppo. Sono due cose diverse. Il progresso è qualcosa che ci porta avanti, che ci porta a respirare meglio. E poi questa metafora adesso è più forte che mai. Lo sviluppo no, è una schiavitù, perché se io devo, e qui progredire. E per loro progredire vuol dire investire sempre di più, investire sempre di più e quindi sprecare sempre di più. Allora, è questo che io rifiuto. Mentre per esempio anche a livello turistico ci può essere un turismo, che noi abbiamo definito sweet, dolce, che invece si basa non sul risparmio, ma su un adeguamento progressivo, un'elasticità, una visione costante di adeguamento, in modo tale che ogni giorno ha le sue caratteristiche, ogni famiglia può intervenire anche a livello familiare, quindi non ho bisogno di avere l'albergo da 200 posti, che poi oggi è fallimentare, si sa già nel momento in cui lo costruisco, ma il B&B si adegua. Due camere, se io ne ho una sola, non è che chiudo, io resisto. Se io ho 200 posti letto, quanti alberghi quest'estate non hanno lavorato? Ma per quello, perché erano sovradimensionati. Quindi insomma, secondo me questa è la via di mezzo, che è una cosa molto più intelligente del compromesso. Arrivando proprio a questo, a questo nuovo turismo, la montagna è diventata di moda, la montagna estiva è ritornata, c'è un avvicinamento alla montagna di molte persone, dei giovani, anche diciamo spinti anche da trend, mode, che non necessariamente sono negative. Però, e quindi la domanda è ad entrambi, nel libro si dice a un certo punto che ci deve essere un ruolo educativo. E chi può avere questo ruolo educativo? Questo per me è determinante, perché poi sotto sotto c'è sempre la cultura che comanda. Se le persone non hanno acquisito certi valori, è chiaro che non possono nemmeno battersi per difenderle, in senso che un valore deve essere acquisito. Beh, allora io qua dico sempre che da questo punto di vista forse non abbiamo fatto tutti questi progressi che avremmo potuto, anche se tanto è stato fatto, perché comunque, per esempio a livello di informazione, oggi sappiamo tutto, però forse non basta sapere, la cultura è una cosa diversa, è un passaggio in più del sapere. Allora qui c'è il CAI che si dà da fare da tanto tempo e forse ultimamente lavora, mi sembra, più efficacemente che in passato, perché, insomma, ha fatto tanto. Dopodiché però il CAI da solo non basta, cioè bisognerebbe di nuovo che fosse acquisito a livello più ampio. Vabbè, qui è facile citare le scuole, no? Le scuole non quelle di alpinismo, ma le scuole, le scuole dell'obbligo. Se pensiamo che nemmeno chi vive ai piedi delle montagne ha un rapporto con la montagna, perché i bambini non vengono portati in montagna nemmeno in Val d'Aosta o in Trentino Alto Adige, e beh, questo è un problema, cioè, perché la prima cosa per amare un posto e per difenderlo vuol dire conoscerlo, vuol dire frequentarlo. Quindi credo che questo dovrebbe essere un passaggio fondamentale. Anche se invece mi pare che di nuovo tra Covid e non Covid si vada in una direzione opposta, perché ci sono sempre più difficoltà a organizzare, uscite, a fare cose. Però innanzitutto io credo che la geografia, e qui veniamo al festival, si faccia veramente sul campo. Io, se io non avessi conosciuto certi posti, non saprei niente di quei posti, perché non basta leggere i libri, non basta. Puoi avere anche un bravo professore, ma non basta nemmeno lui. Questo professore ti deve far vedere le cose. E quindi questo per me sarebbe fondamentale. Dopodiché il CAI lo fa anche con l'alpinismo giovanile, per esempio, lo fa anche con i ragazzi. E questo per me è fondamentale. Sì, diciamo che sono perfettamente d'accordo. Come ti dicevo prima, mentre chiacchieravamo di là, il CAI non è più visto, come nella sua nascita, per unico scopo l'alpinismo, ma è proprio la frequentazione della montagna, il portare la gente a frequentare la montagna per farla conoscere. Poi conoscerla, non c'è bisogno di essere per forza un alpinista come Enrico e di arrivare in cima a vie difficili. Assolutamente no. La montagna si conosce... Gli alpinisti sono tra i più asini spesso. Ma questo l'hai detto tu, eh? No, no, ve lo dico proprio. Non è che... Non è proporzionale. Non è che più sono bravo a scalare, più sono bravo a difendere la montagna. E spesso è esattamente il contrario. Quindi, secondo me, l'importanza del CAI in questo momento, in senso nazionale, non solo Villa Santa, ma è quello che facciamo un po' noi, è invitare la gente a venire con noi in montagna, senza fretta, senza corsa, conoscendo, ammirando quello che è il più bello, che secondo me il buon Dio ci ha fatto, che sono le montagne, ma la cultura di questa gente, come ne parlavamo prima, perché è l'unico modo per inculcare, secondo me, un po' di questa... un po' di queste... come posso dire? Di questa cultura di una volta che ci ha portato a non arrivare a questo punto, a non essere a questo punto. Sono d'accordo con te quando dici che è difficile anche arrivare ai ragazzi, soprattutto in questo periodo. Ci stiamo provando, ci abbiamo provato, ci provano in tanti, speriamo che questa situazione cambi e si torni a portare anche i ragazzi... anche perché la cultura... la si insegna da piccolo, no? Secondo me la cultura... se insegniamo a un ragazzino a non buttare la carta per terra, a foglio di carta per terra da piccolo, non lo butterà mai. E quindi è importante partire da piccolo, arrivare da piccolo anche in montagna e arrivare a far conoscere questo ambiente. Abbiamo ancora un po' di minuti, visto che immagino che la montagna sia un luogo conosciuto e frequentato dalle nostre parti. Chi è interessato faccia pure le domande. Il tempo di portare il microfono? Sì, sì. Però, come diceva lui, piano, senza correre. No, no. No, no. Devi correre, devi correre. Abbiamo due, tutti e due davanti alla cassa, quindi il peggiore posto non c'era. Possa chiederti se vieni qui, così evitiamo fischi. Grazie. Sì, mi piace sempre quando, fatta una parte, diciamo, teorica, storica, molto interessante, non sto... Così, grazie. Mi piace poi quando si va sul concreto, quindi con proposito, eccetera. Tra l'altro mi sono sentito chiamato in causa perché proprio per lavoro ho a che fare da una ventina d'anni nei periodi estivi e anche invernali con gruppi di ragazzi, campi estivi appunto per minori, in zona di montagna, in particolare nel sud Tirolo. Attenzione perché, ecco qui voglio portare due spunti, non facciamoci troppe illusioni sul cambiamento degli scenari, non degli scenari, dei periodi da dedicare alla montagna. Giustissimo dire, prevale magari un turismo estivo, così salvaguardiamo, diciamo, la neve, i ghiacciai, eccetera, eccetera. Attenzione però perché poi c'è l'uscita della medaglia, ovvero se non c'è un equilibrio, il rischio è che il sovraccarico antropico dal periodo invernale si porti al periodo estivo, con conseguenze, anche, diciamo, negative, allo stesso modo per i ghiacciai. L'area che già è sul Tirolo che frequento è la Valle Aurina, l'ultima valle su, un posto bellissimo, penso che sia anche abbastanza noto. Ultimamente gli italiani lo conoscono sempre di più e lì in vent'anni ho visto aumentare non solo il carico antropico, ma anche proprio l'impatto di questo carico. Vale a dire, malga è sempre più facilmente raggiungibile, fuori strada per portarti alla malga, dove vai a mangiare il prodotto tipico, eccetera, eccetera. E lì l'allarme c'è. È una zona ancora abbastanza rispettata, però attenzione a non eccedere all'opposto. Chiaramente in questo caso la guida deve essere l'amministrazione pubblica in primis, quindi una carta delle Alpi andrebbe forse, non so, rinnovata, riaggiornata. Ci vuole una guida forte, questa cosa qui purtroppo manca, perché negli amministratori pubblici il risultato immediato è la cosa più importante. Vedasi Olimpiadi di Cortina e Milano, perché ci tengo, non ho molta simpatia per Sala, anzi nessuna. Già lì siamo fuori con i bilanci di previsione del punto di vista economico, ci sono già denunce sui disastri, fatti su in montagna, queste cose penso che molti le abbiamo viste. L'altra cosa è il ruolo educativo che è molto importante. Qui purtroppo porto una testimonianza invece di chi organizza, io sono operatore, non sono organizzatore, però il campo estivo, la famiglia ti manda il ragazzo se vede l'elenco dell'attività e se vede, vent'anni fa erano camminate tutti i giorni. Questa cosa adesso è molto più difficile da proporre, hanno bisogno, lo sport estremo, che vuol dire arrampicate, vuol dire rafting, quelle cose lì, che in alcuni ambiti possono anche avere un peso sull'area montana, un impatto negativo. E quindi da un lato dice, se non riesci ad avere i clienti poi il campo estivo salta. E' un ruolo educativo che noi cerchiamo di portare e viene a mancare. Quindi è un po' difficile, una strada è un po' difficile, però mi accorgo che nei ragazzi una volta superato proprio il primo impatto, perché la camminata non piace, perché ai loro genitori non piace, attenzione, non c'è questa abitudine di essere una volta. Una volta riusciti a stimolarli poi la cosa va avanti. Quindi ecco il ruolo educativo e mi fa piacere che sia stato sostenuto, poi giustamente il CAI si sta trasformando, insomma sta dando peso a questi aspetti. Quindi mi sembrano discorsi molto importanti e mi piace che si sia arrivati appunto a aspetti direttamente pratici. Quindi ringrazio il relatore. Grazie a te. Prendiamo anche la seconda domanda così rispondiamo in un colpo solo. Che dite? Sì, anche se è la sua più grande domanda, una testimonianza. Le chiedo se può venire qui, perché in mezzo alle casse ho paura di portare il microfono e di far fischiare tutto. grazie a molte. Faccio io l'asta del microfono. Sì, pronto, pronto. Lei ha detto prima che il cambiamento climatico è dovuto in parte all'uomo, non ha detto quali sono le altre cause, se ce le può raccontare. Poi, se è vero che la Terra ha subito questi alti e bassi di temperatura e se l'è sempre cavata, se siamo ancora nelle stesse condizioni, tenuto conto che adesso non siamo più qualche centinaio di miliardi di persone, ma siamo 7 miliardi e mezzo e andiamo verso i 10. e terzo, la mia domanda fondamentale è questa, se sperdiamo i ghiacciai, che sono quelli che alimentano i fiumi, che cosa succede qui da noi? Allora, la prima è troppo difficile, nel senso che non lo sanno nemmeno i glaciologi a momenti. Ci sono mille fattori che influenzano le glaciazioni, ma ci sono state anche mille teorie, sicuramente influiscono gli astri, per esempio, quindi ci sono delle influenze astrali, ci sono tanti fattori, sicuramente è sempre successo e parliamo di grandi glaciazioni o di piccole glaciazioni che sono completamente diverse, perché la grande glaciazione avviene molto raramente, mentre la piccola avviene più frequentemente. Dopodiché, appunto, io mi fermo qua, perché non sono in grado di andare oltre, non sarebbe la sede giusta. Quello che è importante è che noi sappiamo appunto che oggi l'effetto serra, cioè l'emissione di gas serra, sostanzialmente di gas fossili dentro l'atmosfera, accelera moltissimo quella deglaciazione che già era cominciata probabilmente spontaneamente nel 1850 e che non sappiamo quando dovesse finire, perché ve le faccio un esempio, l'ultima glaciazione piccola è cominciata più o meno nel 600 ed è finita nell'850 quindi è durata circa 250 anni, 300 ma non è detto che siano sempre di quella durata, no? Quindi insomma si parla però di questa entità. Potrebbe darsi che tra 50 anni qualche effetto che noi non sappiamo calcolare e soprattutto non possiamo gestire avesse previsto che finiva un fenomeno e ne cominciava un altro. Nel frattempo però ci siamo infilati noi a dare una spinta così rapida che qualcuno dice poi per tornare a invertire la tendenza ci vorrebbe più tempo. Queste sono tutte domande a cui nemmeno la scienza su cui ha delle certezze. la certezza è solo che andiamo troppo veloci in un senso. Poi mi scusi ma prima mi sono distratto mi ricordo l'ultima domanda la seconda era su? La seconda scusi anche a me. Benissimo. No, mi ricordo la terza che è la mancanza d'acqua dell'inghiazio. Allora qui invece ne sappiamo di più. Io così un po' a spanne posso dire che i glaciologi gli studiosi parlano di circa un 30% di acqua che deriva dai ghiacciai circa una percentuale un po' inferiore mi pare che deriva dalle fonti sotterranee e poi il resto viene dalle precipitazioni. Quindi forse un 30% vuol dire che in caso di scomparsa dei ghiacciai noi avremmo di colpo un 30% in meno di acqua. Ma purtroppo non è solo questo perché il ghiacciai ha una funzione molto importante che è quella di regolatore. Pensate un po' a quello che succede per esempio con i bacini idrici delle dighe che hanno un sacco di problemi perché hanno causato un sacco di guai ai fiumi eccetera però hanno questa funzione di regolazione cioè se viene l'alluvione per esempio il bacino in camera e poi io posso rilasciare gradualmente l'acqua. Il ghiacciaio fa un po' questa cosa qua nel senso che il ghiacciaio è un grande accumulatore perché la stocca sotto forma di ghiaccio l'acqua e poi la rilascia lentamente e quindi questa è una cosa di inestimabile valore perché è come se noi avessimo appunto un immenso bacino che ci ridacqua sempre quando ne abbiamo bisogno pieno pieno quindi non è soltanto il 30% che va tenuto in conto ma è tutta questo processo che è fondamentale. Se poi le venisse in mente la terza domanda? Sì era quella che cosa potevamo sperare noi visto che c'era un andamento un po' diciamo alternativo ecco le speranze potremmo non si può ragionare sulle speranze si può ragionare soltanto sulle azioni lei ha citato prima Luca Mercalli se leggiamo i tuoi libri vediamo che lui non ha per niente ottimista ma è molto duro sì diciamo che Mercalli passa un po' come tra quelli più radicali in un certo senso anche se io gli do il merito immenso di aver sempre detto le cose chiaramente confutandole con dati insomma è uno dei pochi che si è veramente speso in questa direzione dopodiché ci sono altri che sono più meno pessimisti se vogliamo che quindi portano dei valori un po' più dei valori nel senso scientifici un po' più ottimistici però alla fine tutti concordano sul fatto che bisogna fare delle cose perché poi la mitigazione del danno noi possiamo farla nel senso che possiamo pensare appunto di portare la gente all'estate invece che all'inverno possiamo fare un sacco di cose però intanto ci perdiamo per esempio un paesaggio una bellezza perché oggi il ghiacciaio è reputato tale che io mi vergognerei a dire a mia nipote guarda che tu quella roba lì la vedrai più perché che autorità abbiamo per fare tutto questo non mi sembra che sia ragionevole quindi insomma nessuna delle certezze nessuno può definire né in un senso né nell'altro ma la certezza è che qualcosa dovremmo fare la certezza è che debbiamo intervenire dopodiché i modi sono adesso è tardi non possiamo elencarli ma sono tanti insomma tanti 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 lo so lo so però cominciamo a vedere con i nostri occhi perché il problema umano è che finché tu non vedi le cose anche si sta avvicinando la catastrofe ma sei lontana non la vedi oggi secondo me senza essere scienziato il discorso che ho sentito della von der Leyen l'altro giorno a Bruxelles non l'avevo mai sentito da un presidente del Parlamento Europeo mai nel senso che comunque almeno a livello di visione ci siamo dopo di che c'è un uno stacco rispetto alla situazione precedente e volevo ancora dirvi che il presidente del comitato scientifico di Tecce Glaciologico si chiama Frezzotti non volevo lasciare in sospeso questa curiosità Giorgio Giorgio che io confondo sempre con Frezzotti fin da quando erano piccoli quindi continuo a confonderli per tutta la vita comunque in questo libro trovate veramente parecchi spunti adesso non abbiamo più tempo perché abbiamo esaurito il tempo a nostro lo slot a nostra disposizione c'è anche una parte prima parlavamo della formazione umanistica sui miti sulle leggende delle Alpi che si sono trasmesse è un libro veramente molto molto interessante molto godibile cioè non è nonostante il numero di pagine non è un mattone è un romanzo è quasi un romanzo sono alcuni anni che lavoro con la terza ci siamo sempre trovati molto bene perché anche loro hanno questa idea cioè che anche le cose pesanti nel senso piene di contenuto anche a volte scabroso vanno raccontate con lievità e quindi io essendo poi uno scrittore nel senso che faccio anche romanzi insomma cerco un po' di raccontarle le cose non di renderle troppo scientifiche perché poi io essendo uno scienziato non potrei sarei comunque fuori fuori ruolo diciamo e vi assicuro che la storia del ghiaccio alcune le ho scoperte scrivendo sono incredibili per esempio la storia di quelli che andavano a prendere il ghiaccio per portarlo nelle città e conservare gli alimenti no? ci sono le ghiacciaie io a Torino ho scoperto queste ghiacciaie che non avevo mai visitato cose pazzesche quindi il ghiaccio è una chiave di lettura sulla storia dell'umanità sostanzialmente si riguarda come si dice nell'incipit quindi io vi ringrazio adesso lo stavo facendo ok va bene? abbastanza niente ringrazio naturalmente Enrico Camagni ed Enrico Cambiaghi del CAI io credo che questo sia un tema veramente interessante tutti noi abitiamo in un posto vicino alle montagne cioè le montagne le vediamo saranno più basse rispetto a quello che si vede da Torino però insomma no 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 è una no 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 voi vedete il Monte Rosa no certo di là lo vediamo il Monte Bianco non lo vede nessuno nemmeno solo da no 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 non il Bianco però noi abbiamo le Prealpi come montagne di casa poi quando andiamo verso Ovest quando andiamo verso Ovest la giornata diciamo è bella e serena comunque grazie a tutti anche questo libro lo potete trovare alla libertà